Una passeggiata lunga 5 chilometri, una pista pedonale e una ciclabile unirà Santa Marina a San Giovanni a Piro. I sindaci delle due località turistiche Giovanni Fortunato e Ferdinando Palazzo hanno sottoscritto nel convento di San Francesco a Policastro-Bussentino un protocollo di intesa per la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura che assicurano i due primi cittadini sarà realizzata in quattro anni. Si tratta di un'opera che unirà la costa che va da Policastro-Bussentino a Scario attraverso una passeggiata immersa nella natura, ha detto il sindaco di Santa Marina Fortunato. Si potranno ammirare le bellezze del nostro territorio ma sarà possibile fare un percorso benessere in completa sicurezza. E sarà anche un nuovo attrattore economico per un territorio bellissimo che, come molti, vive i problemi dello spopolamento e della disoccupazione. Un'opera condivisa dal primo cittadino di San Giovanni Appiro-Palazzo, il nostro territorio, il Cilento, deve essere considerata un'area unica senza separazione tra i comuni di San Giovanni Appiro e Santa Marina. Dopo la questione relativa alla depurazione affrontata in maniera sinergica abbiamo deciso di realizzare un percorso pedonale ciclabile che va da Policastro-Bussentino fino a Scario attraverso la costruzione anche di un ponte che simboleggia l'unione di un territorio e che abbatte le logiche campanilistiche della supremazia di un comune sull'altro, logiche che fino ad oggi hanno mantenuto ferme le politiche di sviluppo del nostro territorio. Dove altri creano muri, noi creiamo ponti di sviluppo condiviso.